Ho diviso questo video in due parti, nella prima vedremo le combo in azione, così da farvi venire un po' di apolina in bocca e la seconda invece è dedicata al farming dei pochi per fortuna oggetti necessari per raggiungere questi risultati e infatti vi presenterò una build in progressione, per cui si potrà partire a un livello minimale, ma già sul devastante, fino al top forse esagero, ma penso che questo sia un video di svolta nel modo in cui si potrà giocare d'ora in avanti a Chaos 4 e se Gearbox aveva previsto questo fin dall'inizio e non avesse scoperto le sue carte, dovrò pure porgere le mie scuse eppure c'era capitato anche con, e i veterani ricorderanno, Boardlands 2 quando è uscita la modalità UVHM, Ultimate, insomma il cacciatore definitivo molti si erano lamentati del fatto che i nemici erano troppa vita, che era troppo difficile e poi abbiamo scoperto che sparando i nemici con armi scoria, il danno triplicava ed è cambiata la vita beh, lo sapete una cosa? Penso che la scoria sia ritornata certo, è una forma diversa, è tutto sommato che richiede un minimo di impegno e di abilità per poterla sfruttare, il che non guasta dai, un assaggino qui, senza la tra virgolette scoria, già curando un minimo la build Gigamine non è un chissà che cosa, però one-shotarlo è comunque un risultato più che discreto prima di applicarla con il terzo scoria, il meglio che ero riuscito a fare era con Flak sfruttando una tecnica particolare che adesso vi spiego perché è comunque interessante ho voluto massimizzare il danno fuoco dello Yon Cannon fuoco usando manufatto Elemental Projector il problema è che mentre Amara può auto-infliggersi con lo spiritual driver danno fuoco, gli altri personaggi no soluzione lanciarsi nei piedi una granata incendiare di quelle che fanno danno splash però questo vi impedirebbe poi di utilizzare la granata che potenzia il danno in altro modo, consacrata o, secondo me è ottimale, usare una pistola come la Sellout a basso livello per non farsi troppo danno, ovviamente il bello è che la Sellout è un'arma assicurata da una missioncina secondaria strafacile nel secondo video dedicato al farming mi mostrerò appunto anche questa missione mi sono quindi sparato nei piedi per incendiarmi pronto lo Yon Cannon, lancio una granata che mi aumenta il danno di qualunque arma del 25% la Quasar che mi avete visto usare più di una volta poi vado in sparizione e cido dentro con lo Yon Cannon non male eh beh, è giusto osservare che c'era anche un più 20% al danno incendario come modificatore Xcaos 4 troppo il danno per il bestione neanche mostra il braccio, si inginocchia qui dovevo incendiarmi, avrei anche fatto prima però poi ci accontentiamo lo Yon Cannon, poi mostro come farmarlo e vedrete quando ne avrete droppato uno che è praticamente immediata la cosa sarà molto più facile droppare tutti gli altri questa è la Sellout e ricordate quello che avevo detto nel video in cui ho usato per la prima volta lo Yon Cannon metterò appunto un po' l'equipaggiamento per valorizzarlo ecco, uno dei modi è questo dotarsi di uno scudo che al termine dell'abilità d'azione infligge il 50% in più di danni fuoco, elettrici, corrosivi, quello che volete e non deve essere per forza un transformer e neanche il leggendario e sapete una cosa? mi sono accorto, giocando forse TvHM e Chaos 4 sono più comuni di trovare davvero spesso dai distributori qualunque di armi scudi o granate con consacrazioni come questa e una granata va benissimo anche verde quello che conta è quel 50% in più che ci darà di corrosione o quello che è chiaramente un altro incredibile boost alla potenza di fuoco potrebbe venire da un roll di un mod di classe con perk che aumenta il danno dei lanciarazzi danno d'area ma anche la frequenza di fuoco ecco le quasar col più 25% ma poi ho trovato delle granate e le userò con Amara che danno il più 50% sempre sul fuoco ne vedremo delle belle proprio come questo drop è un po' di tempo che continuo a trovare diverse versioni delle hex anche consacrate dai, è arrivato il momento di svelare cos'è questa tra virgolette scoria è una pistola la droppa il generale Tront attenzione non capitano Tront il generale, il fratello maggiore sul necrofateio poi lo vedremo meglio nel video dedicato al farming Tedior e che può funzionare come una normalissima arma Tedior sparate, ricaricate viene lanciata il lancio è particolare perché è rapidissimo e c'è un motivo per esserlo quando poi applicheremo il concetto della scoria e rimbalza contro pareti, sassi, terreno anche questo per aiutare a far centro anche stando nascosti o con un nemico che si tiene nascosto e fin qui al di là di apprezzare un danno base piuttosto elevato per una Tedior nulla di che ma è sempre la scritta rossa che fa la differenza per una leggendaria tocco di morte richiede maestria, sequenza, combo se si scarica tutto il caricatore quindi negando il vantaggio di un Tedior che cosa succede? che quando l'arma viene sparata su un nemico gli andrà ad applicare un cosiddetto debuff cioè faremo il 50% di danno in più per 12 secondi e già non sarebbe male pensate a noi un cannon ma c'è molto di più l'effetto è cumulabile ripetere il lancio 100%, 150% si può teoricamente arrivare dipende anche dalle tempistiche 12 secondi non sono tanti si rischia di perdere aspettando troppo il debuff del primo lancio fino al 300% oh, guarda casa se non ricordo male anche la score di Borderlands 2 dava proprio il triplo del danno d'accordo vediamo allora questo debuff in azione testare l'applicazione di questo debuff contro nemici di basso livello è un po' difficile cogliere differenze e allora ho pensato facciamolo con un'arma bestiale contro un nemico bestiale ion cannon e il custode lì ce n'è di salute per fare tutte le prove che vorremo d'ora avanti quando dovrò fare il danno fuoco metterò sempre questo transformer col p50% sul fuoco per fare le due prove con e senza debuff della pistola allo stesso livello non ho usato lo spiritual driver perché lì è più difficile controllare il movimento e potrei avvantaggiare uno dei due test e comunque visto che nel DLC è facilissimo droppare tonnellate di questi mod mentre il farming dello spiritual non è uno zuccherino questo rappresenta un'ottima alternativa anche perché con tanti drop dello stesso mod non è impossibile arrivare prima o poi a qualcuno con questi perk danno esplosione più 28% danno arma più 25% e magari chissà con una combinazione con più 17% danno armi pesanti e al posto dell'elemental projector victory rush qua servirebbe a poco metto questo sempre projector white elephant che ha un più di 17% al danno da armi pesanti poi può appiccicare uno stick adesivo pure quello fa un po' più di danno per avere le stesse condizioni ho aspettato il braccio quindi la prima parte non faccio nulla saltello evito e mi preparo a sparare al braccio in entrambi i casi mi boosto con la shell out per il projector ovviamente cerco di mettermi più o meno la stessa distanza e di colpire più o meno lo stesso punto eh già così non è male risignatevi l'attacca della salute poi torno qui così avrò gli stessi identici modificatori porto la pistola droppata da tron a un passo della ricarica perché in questo modo vi basterà sparare un colpo per proiettare l'arma verso il nemico ok qui per vedere l'aumento netto lo farò solo una volta mi preparo mi infiammo sparo vedi visto che è velocissimo poi il lancio e come prima boom fate pure i controlli millimetrici è proprio circa millimetro più millimetro meno il 50% in più del danno di prima funziona e non solo contro i boss come i custodini contro qualunque nemico dicevo accumulabile fino a un massimo di 6 volte però non è sempre facile sfruttarlo adesso vi spiego meglio perché quindi teoricamente potremmo arrivare al 300% di danno in questa situazione forse è quella più ideale però dovremmo avere anche un personaggio con la massima velocità di ricarica possibile meno proiettili nel caricatore perché ogni debuff dura 12 secondi per cui se fatto 4 calcoli ci mettete 3 secondi a scaricare la pistola dopo 4 volte sono già passati 12 secondi e perdete il debuff della prima scarica se non si è capito ribadisco dovete scaricarla tutta non funziona sparare un colpo e poi ricaricare l'arma avrebbe lanciata farebbe un descritto danno perché di suo non è male come danno di base anzi piuttosto alto per un tedior rapidissimo nel ricaricarsi per cui va bene anche come arma generica ma ragazzi la combo giusta ricordate la sita rossa è questa e ora con tutto l'armamento al meglio le granate che mi danno più 50% danno fuoco ma esistono anche dicevo verdi che fanno la stessa cosa indeciso non posso insistere con il golden rule ma voglio provare con il victory rush e quindi lo spiritual driver peccato che non abbia perche aumentano il danno mannaggia la build l'ho modificata non è più quella dello spiritual driver perché dobbiamo cercare di tirare fuori più danno possibile domandona si può one shottare il custode a chaos 4 in questo modo qua legit senza glitch secondo me sì poi vedrete che ci sono andato abbastanza vicino ma ho commesso qualche errore tanto le hex mi stanno davvero perseguitando poi c'è margine di miglioramento per il mod come dicevo prima vediamo allora la run che era quella che mi ha dato più possibilità di ambire a un one shot qui ho perso un po' di tempo secondo me una carica in più di debuff ci poteva stare forse me ne sarei portato dietro una in più forse sono quasi da tutto nel buco vabbè quindi comincio adesso in pratica secondo me per one shot bisogna puntare al braccio altrimenti non ce la si fa granata super se fossi partito un po' più lontano più velocità più danno e chissà chissà però è mostruoso ok ok non malaccia questa volta i drop nulla di che pronto non poteva mancare ho mantenuto lo scudo che dà più 50% fuoco perché ho detto se riesco a far fuori con la gran botta qui lo spirito il driver può andare a paletta perché si può correre molto bene e a quel punto ci voglio il fuoco per farlo fuori funzionerà quindi è in corsa lancio granate e pass un'altra grande caratteristica del ion cannon lo vedete è la durata nel tempo del danno è pazzesco ok non penso che sia bisogno di altre dimostrazioni di quanto attrattiva possa essere questa combo e allora vi do l'appuntamento al prossimo video che pubblicherò molto la svelta dove vi spiegherò tutto per bene riguardo il farming di quello che potrebbe servirvi per raggiungere livelli di devastazione assolutamente calatici a risentirci